Non c'è cosa migliore che sia un musulmano italiano che spiega a un altro italiano cosa gli svanno, è il miglior modo perché c'è una modalità di linguaggio, non solo di linguaggio della lingua italiana, è una questione di mentalità insomma. E risultare al culturale. E oltretutto crediamo che purtroppo con tutto il rispetto per i nostri collegionali l'immigrazione che mi interaglia.